Gli irlandesi scelgono il loro nuovo presidente della Repubblica questo giovedì, favorito l'uomo d'affari Sean Gallagher, davanti all'ex ministro laborista Michael Higgins e a Martin McGuinness, ex dirigente dell'Ira, poi protagonista del processo di pace. Quest'ultimo accusa Gallagher di aver ricevuto denaro da un uomo d'affari condannato per contrabbando per finanziare il Fiannafoil.